Il gol decisivo contro il Chieto, come stai, come ti senti, quali sono le tue prospettive in vista della gara con la Lazio? No, sono tranquillo a Sereno, stiamo lavorando per la gara contro la Lazio, stiamo pensando tanto per la partita che è molto importante per la squadra, niente, ho fatto un gol, non so se niente, ho continuato così a allenarmi, a lavorare e non ho detto prima ancora in palco. Hai fatto una telefonata a Siena, sa che Siena ha strapazzato un mesetto fa, la Lazio ha chiesto consigliare per tutti i tuoi compagni? Sento tanti miei compagni lì a Siena, ci parlo sempre, loro stanno un po' male perché avevano una conversazione per me in Scorcia, ma sento tanti miei compagni, adesso inizio a pensare alla partita che è la Lazio, con la squadra. Grazie. 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 Grazie.